Quanti ne avete tagliati finora di alberi? Sono tutti arrabbiati qua intorno. Sette pini, questo è l'ultimo, erano qua, erano proprio sul ciglio sul forno. E avete lasciato questi due, questo era l'ordine praticamente. Dal comune, sì. Quindi di due ipocastani questi rimangono. E la resta sì, poi si deve fare. Oh, e che significa poi filibra? Dove state portando i resti? Sì, allora, lo terrà la notte. Buongiorno, qua c'è un pini una volta. Ma mi pare, mi pare, che molti figli, però non li vedo. Loro hanno dichiarato sul giornale che erano vuoti all'interno. Però lei non li sta vedendo vuoti? No, sono sani, sono sani. Ci fa vedere un tronco? Ce l'avvicina? Sono sani. Oh, ci faccio vedere un po' sto tronco? L'avvicina un po' qui al signore. Dove la vede che è sano? All'interno? Col taglio. Vediamo il taglio. Eccolo qua. Quello è chiamato, c'è una materia, la dendrometria, la dendrometria. Ogni cerchio è un anno. È sanissima questa pianta. Perfetto. Adesso non lo so. Mi è dispiaciuta questa cosa. E' me, come si trovi una pianta. Ho visto più o meno, a occhio e prosso, una gigantina di cerchi. Quindi 50 anni. 50 anni. E' me, come si trovi una pianta.